Oggi giochiamo un po', giochiamo un po' con il cinema, lasciamo per qualche minuto sul mio canale YouTube, lasciamo il calcio e parliamo di cinema, una delle mie grandi passioni. A proposito, ho andato a vedere l'ultimo film di Paola Cortellesi, che vi consiglio, un film veramente divertente, sceneggiatura originale, nuovo, piacevole, e Paola Cortellesi si rivela attrice poliedrica, eclettica, ma soprattutto molto brava. Però vi racconto quello che mi è successo e voglio vedere se voi siete bravi come me. Stavo guardando la serie televisiva tratta da un romanzo che ho letto, che mi è piaciuto tantissimo, di Joel Dichter, La verità sul caso Henri Kebert. Stavo vedendo il film, uno dei protagonisti è Patrick Dempsey, e a un certo punto vedo un attore in questa serie televisiva, e mi sono messo a dire, ma questo attore mi ricorda qualcosa, mi ricorda o meglio qualcuno, e sono stato formidabile. Voglio vedere se anche voi siete formidabili. C'è un attore nel film La verità, nel film televisivo, La verità sul caso Henri Kebert, che è stato, non come protagonista assoluto, ma è stato uno dei protagonisti di un vecchio film di più di trent'anni fa. Riconoscere oggi questo attore nel film La verità sul caso Henri Kebert, e ricordarlo, era un po' truccato, non è un film, questo di più di trent'anni fa, se vi dico il film è troppo facile, un film dei giorni nostri, è un film che ricorda un avvenimento dei tempi passati, quindi c'era un trucco da parte di questo attore, ma io l'ho riconosciuto, e ho detto, questo è stato il protagonista, o meglio uno dei protagonisti di quel vecchio film, con un nome che mi ricordo ancora oggi. Allora, se volete così giocare con me, pensate ai protagonisti del film La verità sul caso Henri Kebert, cercate un attore protagonista di un film di più di trent'anni fa. Aveva un trucco particolare, è stato un attore particolare, una figura particolare, una figura indimenticabile. Oggi, prima di parlare ancora di calcio, apro questa parentesi cinematografica. Attore oggi con in abiti moderni, nel film con Patrick Dempsey, e poi attore in quel film in costume, possiamo dire così, di più di trent'anni fa. Vediamo se riconoscete l'attore e soprattutto il nome, che nome aveva in quel vecchio film di più di trent'anni fa. Se vi è piaciuto questo video un po' anomalo, mettete il vostro like, spero che vi piaccia, ma soprattutto che vi mettiate a indovinare. Io ho indovinato. Iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, anche iscrivetevi anche gli amanti del cinema.